Il convoglio si è fermato in piena campagna, nel tratto ferroviario tra Casa Massima e San Michele. I pendolari a bordo delle carrozze cominciano ad avere qualche perplessità, dubbi che ti assalgono dopo la tragedia ferroviaria avvenuta la settimana scorsa tra Andria e Corato. Sono una quarantina i viaggiatori del regionale che ha dovuto interrompere la corsa al chilometro 21 sulla linea che collega Putignano a Bari. Il treno, un ATR 220, si è fermato per un problema ai cavi aerei che erano stati tranciati dai gnoti durante la notte. I passeggeri sono stati fatti scendere in attesa del bus sostitutivo che li ha portati a destinazione. Ma l'episodio ha destato non poco allarme, soprattutto perché la sud-est, così come le altre aziende ferroviarie in concessione, sono sotto osservazione per quanto riguarda la dotazione e l'utilizzo di sistemi di sicurezza tutela dei viaggiatori. Toccherà ora ai carabinieri indagare per risalire ai responsabili del taglio dei cavi aerei.